Eccoci con Edoardo Lanza, il portiere che oggi, insomma, al di là del rigore, tutto sommato, sei stato poco impegnato. Sì, non molto impegnato, però credo nelle occasioni che mi sono capitate di aver comunque fatto bene. Peccato per il rigore, perché comunque l'obiettivo è sempre di non prendere gol sul 4-0, però vabbè, dai, ci sta anche questo. Tra l'altro, mentre prendevi il rigore, passava Luca Mordenti dietro la tua porta. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Infatti anche per quello, vabbè, può capitare. Assolutamente sì, insomma, poi Luca lo dice sempre. A proposito di Luca, facciamo un piccolo passo indietro, anche perché, insomma, di oggi è una bellissima vittoria sotto tutti i punti di vista che vi serviva. Però martedì avete fatto un allenamento particolare, di cui abbiamo già parlato, ma volevo sentire la tua opinione proprio da protagonista. Ma sicuramente è stata una bellissima esperienza, vedere tutti i portieri, tutti i preparatori, tutti insieme, vedere proprio anche dai più piccoli come si divertono, arrivare fino a noi che diventa, diciamo, quasi un lavoro, un qualcosa che se ti impegni vai avanti, altrimenti ti fermi. È stato comunque molto bello vedere tutti riuniti, tutti insieme e speriamo che si ripeta. C'è qualcosa in particolare che persone come Toni Maio, Luca Mordenti, insomma, ti stanno insegnando, vista la loro esperienza? Sì, assolutamente. Sono portieri con una grande esperienza, da loro solo da imparare, soprattutto da Luca, ogni volta che siamo lì, che facciamo allenamento, ogni magari errore di posizione, di presa, tutte queste cose qua, mi corregge sempre e lo fa in modo molto professionale. E comunque è anche un grande stimolo per noi portieri, anche più piccoli, vedere comunque la voglia di un uomo di 40 anni che è ancora in eccellenza e che ha ancora tanta voglia di giocare. Senti, in partito facendo, invece, tornando alla partita di oggi, in partite così, dove vinci facile, usiamo questa espressione, è più facile o più difficile dirigere dalla porta una partita del genere, appunto? Ma è abbastanza difficile, perché comunque sull'1-0, 2-0 ancora c'è la concentrazione, quando poi comincia ad arrivare da 3-4-0, i giocatori cominciano magari anche, soprattutto verso la fine della partita, cominciano ad essere stanchi, cominciano magari a non ascoltarti più e quindi bisogna magari alzare un po' più la voce. Però comunque ci può stare, perché quando vinci 4-0 è chiaro che anche io stesso dalla porta un minimo calo di concentrazione ci può stare.